Ha fatto il giro dei social, suscitando scalpore e sdegno l'immagine dell'auto lavata tra le tombe del cimitero di Marostica. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, ma dalla visione dell'immagine appare chiaro invece che un uomo stia pulendo un veicolo scuro. Immaginabile la reazione di chi ha visto lo scatto e che magari ha una persona cara che riposa proprio nel campo santo della città degli scacchi. Da prime indiscrezioni non dovrebbe trattarsi del classico furbetto della situazione, ma pare che l'individuo in questione sia stato autorizzato a usare l'idropulitrice all'interno del cimitero per il lavaggio di alcune lapidi e con l'occasione avrebbe dato una passata anche ai vetri dell'auto di servizio. Ma questo è ancora tutto da appurare e noi andremo a chiedere conto direttamente al sindaco Matteo Mozzo.